La gente è stupita per il modo di insegnare di Gesù, come uno che ha autorità, ma un'autorità umile e di servizio, vicina alla gente e coerente, non come quella degli scribi. Così Papa Francesco ha commentato il Vangelo della liturgia di oggi nell'Omelia della Messa del Mattino celebrata a Casa Santa Marta, sottolineando che i sacerdoti avevano autorità formale, ma non entravano nel cuore del popolo, mentre Gesù aveva autorità reale, non perché fosse un seduttore, ma perché insegnava la verità. Gesù era al servizio della gente e questo gli dava autorità, mentre i dottori della legge si sentivano principi, noi comandiamo, voi obbedite. Gesù poi era vicino alla gente, non come gli scribi che si allontanavano e disprezzavano il popolo con una psicologia clericalistica. Infine Gesù era coerente, viveva quello che predicava. Invece queste gente non erano coerenti. La sua personalità era divisa al punto che Gesù consiglia ai suoi discepoli, ma fate quello che vi dicono, ma non quello che fanno. Dicevano una cosa e facevano un'altra. Incoerenza. Erano incoerenti. E l'aggettivo che tante volte Gesù gli dice loro è ipocrita. Si capisce che uno che si sente principe, che ha un atteggiamento di clerico, clericalistico e che è un'ipocrita, non ha autorità. Dirà le verità, ma senza autorità. Invece Gesù, che è umile, che è al servizio, che è vicino, che non disprezza la gente e che è coerente, ha autorità. E questa è l'autorità che sente il popolo di Dio.